Buonasera dal Tg. È passato un anno da quando ha iniziato ad operare il centro di supporto 521 nella via Zagabria di Pola. Si tratta di uno spazio unico che fornisce servizi di consulenza e assistenza sociale, organizza varie attività e supporto psicosociale. Le persone più importanti delle città e dei comuni del circondario polese hanno firmato l'accordo sul cofinanziamento del lavoro del centro. In quest'anno il centro ha fornito complessivamente 402 servizi a 212 utenti della zona di Pola e di Torni. Le tipologie di servizi sono diverse, da quelli più semplici come aiutare l'utente a indirizzare l'utente al giusto indirizzo nel sistema sanitario o sociale, oppure risolvere servizi molto più complessi in cui i dipendenti del centro seguono l'utente dall'inizio alla fine dell'intera pratica. Le attività principali del centro di supporto 521 sono fornire assistenza ai cittadini a chiamata o richiesta, consulenza ai cittadini, visite sul campo ai comuni e città di Pola e informazioni varie. I costi totali del centro ammontano 80.000 euro, di cui il 70% è a carico della città di Pola e la restante parte è a carico della città di Lignano e dei comuni di Fasana, Barbana, San Vincenti, Lisignano, Marzana e Medolino. Tutti i firmatari dell'accordo hanno elogiato il lavoro del centro e hanno espresso la volontà di continuare a finanziare in futuro. Ecco le dichiarazioni di alcuni di loro. Oggi quando la gente vive peggio di sempre, mai più poveri, dove le persone con redditi più bassi sono abbandonate a se stesse, questo è un piccolo, solo un piccolo segno di attenzione verso queste persone. E ho detto ancora una volta, Fasana è estremamente sensibile socialmente e ci si prende cura di tutto e poi niente delle persone. Di conseguenza abbiamo sostenuto questa parte e spero solo che venga rafforzata e resa ancora più efficace. Sono pochi i fondi che stanziamo. Siamo addirittura favorevoli ad un aumento di 10 volte di questa parte. Penso che l'idea di unire un progetto del genere in un unico numero di telefono, che poi canalizzi tutte le esigenze di altre istituzioni, sia un modo molto intelligente di lavorare. E penso che sia di tendenza nel momento in cui viviamo. Questo penso che anche altre cose dovrebbero funzionare in questo modo. Il comune di Medolino, come ha detto prima di me il mio predecessore, il signor Corac, è anche socialmente sensibile. E sono felice di vedere questo, cioè quando vedo tutti noi insieme, i sindaci delle città, i sindaci dei comuni, del circondario polese, che ci siamo uniti per andare incontro ai bisogni, aiutare i bisognosi, mostrare loro ciò di cui avevano bisogno, in modo che potessero ottenere le informazioni e la guida necessarie per tutte le cose di cui avevano bisogno e di cui avevano la necessità nel modo più semplice possibile. Comunque l'orario di lavoro del centro è dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il numero di telefono è 052 521 522. A Rovigno si è svolto il più grande incontro del settore turistico nel nostro paese, i giorni del turismo croato. Il programma ha riunito oltre 1200 partecipanti, iniziando con un seminario sull'era della sostenibilità nel turismo croato. Il programma di due giorni ha compreso diverse presentazioni e tavole rotonde, nonché la cerimonia di premiazione dei migliori e più meritevoli nel turismo per l'anno 2022. Si è parlato della riforma della gestione dello sviluppo turistico, del nuovo codice del turismo e dei futuri passi che contribuiranno alla sostenibilità del turismo croato. Ecco le dichiarazioni del primo ministro croato Andri Prenkovic, della ministra del turismo Nicolina Brnac e del direttore dell'Associazione Croato del Turismo Veliko Ostoic. La valutazione complessiva di questa stagione turistica, per quanto riguarda tutti i principali indicatori, ovvero indicatori di entrate, arrivi e pernottamenti, è estremamente positiva. In effetti, per quanto riguarda gli arrivi e i pernottamenti, abbiamo raggiunto i 20 milioni di arrivi e i 106 milioni di pernottamenti. Le stime delle entrate complessive sono di circa 14 miliardi di euro, il che significa che siamo migliori negli arrivi e nei pernottamenti rispetto all'anno scorso e che abbiamo ottenuto il miglior risultato di sempre per quanto riguarda le entrate. Abbiamo discusso naturalmente del corso della stagione turistica fino ad ora. Possiamo essere estremamente soddisfatti perché è stata la migliore pre-stagione di sempre, la stagione è a livello del 2019 e anche la post-stagione è stata altrettanto buona. Anche la soddisfazione degli operatori turistici è evidente. Ciò che hanno elogiato è l'ingresso della Croazia nella zona euro e nello spazio Schengen, che ha sicuramente permesso risultati turistici così positivi nella pre- e post-stagione. Ci siamo anche soffermati sulla preparazione del nuovo anno turistico, evidenziando sicuramente i vantaggi della Croazia come il fatto che è una destinazione turistica sicura. Abbiamo toccato tutti i settori e i progetti che stiamo realizzando con la Croce Rossa Croata, il Ministero degli Interni, con gli agenti di polizia provenienti dai mercati emitenti che vengono in Croazia, nonché con il Ministero della Salute, riguardo le ambulanze turistiche ai numerosi altri settori. Abbiamo sottolineato l'importanza della sostenibilità del nuovo codice del turismo che permette una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche. Penso che tutti possiamo essere soddisfatti. Da quest'anno la Croazia fa parte dello spazio Schengen e ha dotato l'euro. Ringrazio il Primo Ministro e il Governo per questo. Sicuramente ciò ha avuto un impatto significativo sull'efficacia della stagione di quest'anno. Nel contesto della situazione generale della sicurezza abbiamo discusso anche sulla questione della forza lavoro, che certamente rappresenterà un ulteriore ostacolo, specialmente quando si tratta di rilasciare permessi di lavoro per alcuni mercati. Credo che troveremo soluzioni che consentiranno ai datori di lavoro di assumere un numero sufficiente di persone in modo che la prossima stagione turistica sia migliore di questa. Nel proseguimento dell'incontro, l'era della sostenibilità nel turismo croato, i sindaci di Ragusa, Rovigno e Pola, Mato Francovic, Marco Paliaga e Filip Zoricic, hanno condiviso le loro esperienze nella gestione delle destinazioni ed hanno accolto favorevolmente l'approvazione del nuovo Codice del Turismo, che fornisce alle regioni e alle città gli strumenti per gestire lo sviluppo del turismo in direzione della sostenibilità. Notizie Flash. Appuntamento letterario domani presso la comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano. In programma la presentazione del volume di poesie Gocce di Rugiada. Si tratta di una raccolta di poesie di autori galesanesi con versi scritti nel locale di Aletto Istriotto. L'appuntamento avrà inizio alle 19.30. Domenica 19 novembre alle 17 presso la comunità degli italiani di Fiume si terrà il concerto degli studenti dell'Accademia di Arti e di Cultura dell'Università di Osiek e il pianista accompagnatore Ante Blasjevic. L'ingresso è gratuito. Sempre meno pesce sulle tavole dei croati, dicono i sondaggi. Il pesce si mangia poco e spesso il motivo sta nel costo salato. Ma i piatti di pesce non devono necessariamente essere costosi, dice il noto chef istriano David Zcoco, sottolineando che con l'introduzione del pesce nella dieta quotidiana si deve iniziare sin da piccoli. Nel contesto del progetto pilota FLAG Alba, conservazione e valorizzazione del tradizionale stile di vita vicino al mare, presso la scuola elementare Ivo Lola Ribar si è tenuta la seconda formazione del personale di cucina delle istituzioni educative nell'area FLAG Alba. La formazione si è tenuta nella cucina della scuola principale con l'obiettivo di continuare la formazione del personale di cucina al fine di aumentare il consumo di prodotti della pesca e dell'acquacultura. Questo progetto non ha un grande valore, ma è estremamente importante per noi. Il progetto ha un valore di 7.000 euro ed è finanziato con il supporto preparatorio del nuovo programma operativo per la pesca e l'acquacultura. Siamo davvero molto felici di poter organizzare tali formazioni. Siamo felici di poter collaborare con David Scocco e con l'Asri. Sono veramente persone che promuovono i cibi locali e salutari. Durante la formazione sono stati preparati piatti con sardine, triglie e folpi. Scocco ha mostrato come sfruttare il pesce fresco e creare piatti che sono interessanti, gustosi e salutari e che contengono pesce pulito. Nel frattempo ha illustrato le tecniche di cultura che i cuochi possono utilizzare anche con tutti gli altri ingredienti freschi. Questi piatti sono necessariamente più costosi rispetto ad altri? Assolutamente no. Il nostro pesce non è costoso. Costoso è il pesce che sono trofei. Gli splendidi gamberi grandi sono costosi. È normale, è sempre stato caro. Il pesce spada, lo scrofano, il dentice e il tonno sono costosi. Ma le sardine, le triglie, gli sgombri, le aguiglie, le salpe, le acciughe, le palamite, i moscardini o qualsiasi pesce azzurro non è costoso. Un chilo di sardine costa tra i 3 e i 5 euro. Con un chilo di sardine mangiano 4 persone. Non si può dire che sia caro. È più conveniente di qualsiasi carne che si possa comprare ed è incomparabilmente più salutare. Skoko ha affermato che l'avvicinamento del pesce ai bambini dovrebbe iniziare fin da piccoli, soprattutto da parte dei genitori. E il direttore della scuola ha concordato con lui. Questa storia sulle abitudini alimentari probabilmente continuerà. Purtroppo ciò che portano da casa non è sempre ciò che sarebbe meglio per loro. Lo sappiamo bene. Molte volte, nemmeno noi con il nostro esempio, forniamo loro ciò che dovremmo. Ma credo che con la pazienza di tutti noi insieme e con le condizioni che abbiamo stabilito, questa storia avrà una conclusione di successo. È importante sottolineare che la cucina della scuola elementare Ivo Lola Ribar è stata rinnovata due anni fa nel contesto del progetto Mare Grazie, creando così le basi per la realizzazione di tale formazione. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno presentate lunedì 20 novembre alle ore 20 e 30 nella trasmissione Cronaca di Albona. Un weekend di festa nel Parentino, festeggiato in particolare a Dorsera e a Torre, che per tradizione omaggiano San Martino, patrono dei Borghi, nel quale prendono parte attiva anche le rispettive comunità degli italiani e i tanti attivisti conazionali. Il Vescovo Ottone, uno dei più noti pastori nella storia ecclesiastica parentina di famiglia nobile locale, ha lasciato un'indelebile traccia non solo dentro alla Basilica Eufrasiana, vigenissima tra l'altro all'Episcopio, dalla quale, come noto, ci tramanda il Ciborio. Per l'appunto, da egli è commissionato nel 1200, ma ha lasciato traccia in tutto il nostro territorio. Ce lo conferma il professor Marino Baldini, svelandoci entusiasta i mediti risultati di recenti ricerche. Un tema un po' affascinante che appartiene al Medioevo, ma anche a un personaggio molto celebre, tra il più nominato nelle fonti medievali istriane. Non sbaglieremo se diciamo che si tratta di un personaggio tra i più celebri della storia, ma anche della storia dell'arte, anche della storia ecclesiastica istriana, ma di un'importanza talmente, diciamo, di accenare che è collegata anche con l'urbanesimo, con le comunicazioni principali. Si tratta di un Vescovo che nella giovane età viene nominato nell'iscrizione del sarcofago di San Mauro, nella cela tricora, da giovane come Ottonello. Più tardi Vescovo a Pedena e ancora più tardi Vescovo per quasi 40 anni a Parenzo. Quello che è interessante è praticamente ha fatto delle commissioni un po' dappertutto, da Gallegnana a Montona, da Parenzo a San Lorenzo, ma forse quello che più spicca nell'occhio, anche vedendo delle foto, diciamo, dei drone, o visto dall'alto, è la struttura urbana di Orsera. Orsera, Orsara, località tardo-romana, paleo-bizzantina, alto-medievale, è stata la proprietà dei Vescovi di Parenzo e dunque anche del Vescovo Ottone, che però ha lasciato una traccia importante, ancora oggi, leggibile in un monumento centrale e anche nella struttura e nello sviluppo della struttura urbana di Orsera. Si tratta naturalmente del castello, il castello con l'orologio a meridiana, l'orologio solare, che aveva quattro tori medievali, aveva anche le mura e il palazzo interno con la vera da pozzo medievale, con la cisterna, con i piani fortificati in cima da Ghibellini, che appartenevano tutti, anche se esser stati restaurati più tardi, al periodo della costruzione, che apparteneva naturalmente al commissionatore e al proprietario del castello e tutto il territorio, perché il titolo del Vescovo Ottone era di Vescovo di Parenzo e signore di Orsera. Dunque, c'è un'iscrizione che è stata spostata dal palazzo del Vescovo di Orsera o il castello di Orsera in stanza Vergotin nella quale scrive, c'è l'arco praticamente di ingresso nel castello del Vescovo Ottone, sub ottonis, in tempo di Ottone. Siamo verso la metà del 1200, essendo il Vescovo Ottone che tutti i grandi storici ritengono nativo di Parenzo, dunque Parenzano, Vescovo non solo di Parenzo, ma anche nativo di nobile famiglia Parentina, non sappiamo da quale. Dunque è stato quello che ha commissionato la costruzione del centrale castello di Orsera, intorno al quale si sono formati i suburbi, quali sono stati chiusi con le mura, e dunque il suo inizio, diciamo, la costruzione del castello medievale di Orsera, da parte del Vescovo Ottone come commissionatore, ha dato l'impulso centrale della formazione del centro storico e dell'urbanesimo medievale e veneto dell'epoca veneta di Orsera. Ed è tutto dal Tg, grazie dell'attenzione, buona serata.